Dopo un bel po' di tempo torniamo nello spazio più profondo grazie a Gearbox Software che si è occupata dello sviluppo di Aliens, Colinal Marines. Dai corridoi della Sulaco fino alla superficie della luna LV-426, il titolo mette a disposizione il classico armamentario della serie, compresi i suoni delle armi. Purtroppo il progetto sente il peso degli anni e dello sviluppo travagliato, vediamo assieme ad ogni modo com'è il risultato. Si può certamente parlare di uno sviluppo travagliato per Aliens, Colonial Marines. Dopo l'annuncio del lontano 2006, i lavori sono andati avanti a rilento per vari motivi e solo oggi il gioco arriva nei negozi, portandosi dietro problematiche per certi versi simili a quelle viste in Duke Nukem Forever, ovvero siamo di fronte ad uno shooter un po' fuori dal tempo. Il setting è intrigante, la trama si pone come un sequel diretto del film Aliens Scontro Finale e ci vede vestire i panni del caporale Christopher Winter durante l'operazione di soccorso della Sulaco, la nave su cui si trovavano Hicks, Ripley, la piccola Newt e l'androide Bishop. Un salvataggio ad altissimo rischio, insomma. La campagna di Aliens Colonial Marines è composta da 11 livelli e può essere completata nel giro di circa cinque ore. Decisamente poco anche rispetto a quanto fatto nel 2010 da Rebellion con Aliens vs Predator. Il protagonista viene quasi sempre accompagnato da altri Marine, elemento questo strettamente legato alla possibilità di giocare la campagna in modalità cooperativa per quattro giocatori. Gearbox non ha però inteso la presenza di alleati come una scusa per uno scripting classico e totale dello svolgimento delle missioni, con i compagni che vanno avanti e noi che dobbiamo seguirli senza sosta. Questa interpretazione ci è stata fortunatamente risparmiata in favore di un approccio più solido, in cui sta a noi operare le scelte e dettare la linea, per poi godere dell'eventuale supporto degli alleati di turno. Possiamo quindi saldare o disaldare delle porte, disattivare torrette automatiche trovando il percorso migliore per non farci sparare contro ed utilizzare il celebre rilevatore di prossimità. Il rilevatore però non è stato implementato nel migliore dei modi, dopo qualche esperimento ci troveremo a riporre il dispositivo e a fidarci unicamente del bip emesso quando c'è un segnale molto vicino. Diverso sarebbe stato il discorso se gli xenomorfi avessero spesso approfittato dei canali di areazione per coglierci di sorpresa, ma visto che nella maggior parte dei casi la loro presenza è ben visibile, l'uso dello scanner si limita al puro fanservice. Sul fronte dei nemici c'è una bella progressione. Si passa dai ragni agli xenomorfi classici, dalle varianti prive di vista a quelle che sputano acido da lontano, per finire con gli esemplari più grossi e pericolosi, regina inclusa. In mezzo poi ci sono anche mercenari al soldo della Weyland-Yutani. È un peccato che il medesimo approccio non sia stato dedicato alla gestione delle armi, che non solo ci vengono assegnate in modo confuso, ma senza neppure la dovuta valorizzazione. Abbiamo a disposizione quattro armi base, con tanto di alcune varianti. Ognuna di queste armi può essere potenziata accedendo all'apposita schermata. Il problema è che affrontando la campagna a livello di difficoltà normale è praticamente impossibile rimanere senza proiettili, né tantomeno si ha l'esigenza di provare tutte le armi a disposizione. È ovvio che si tratta di un problema di design, quando si ha una certa quantità di armi ben diversificate, senza però spingere il giocatore a provarle, non creando situazioni in cui sia necessario scegliere al meglio nel proprio arsenale. Aliens Colonial Marines è senza dubbio uno shooter un po' fuori dal tempo, cosa questa particolarmente evidente se andiamo ad analizzare il comparto tecnico. Il titolo gira su di una versione modificata della Unreal Engine 3, dotata di una resa delle luci e delle ombre più che buona, aiutata anche da un level design azzeccato. Purtroppo però i punti di forza terminano qui e lasciano spazio a un bel po' di perplessità, soprattutto riguardo la qualità dei modelli poligonali e il grado di rifinitura generale. Non siamo assolutamente a livello delle ultime produzioni su console e in ambito PC il confronto con Crysis 3 è impietoso. Stiamo parlando davvero di generazioni differenti. Che Gearbox abbia lavorato su Xbox 360 e PlayStation 3 per poi convertire su PC appare palese anche dalla mancanza di opzioni avanzate per la grafica, cosa che lo mette in difficoltà anche nei confronti di un titolo come Aliens vs Predator di Rebellion, uscito tre anni fa, superiore in tantissimi comparti, dalle animazioni agli effetti speciali ad esempio. Per fortuna è stato fatto di meglio per il comparto audio che vanta non solo le musiche originali del film, ma anche un doppiaggio in italiano molto ben fatto. Aliens Colonial Marines è senza dubbio un titolo solido e non scriptato, come alcuni recenti FPS, ma allo stesso tempo soffre per via di mancanze tutt'altro che marginali. Stiamo parlando della campagna single player, breve e malbilanciata, dell'arsenale che non viene adeguatamente valorizzato, di una realizzazione tecnica ben al di sotto degli standard attuali e priva di quei particolari che fanno capire quando una produzione non è ben rifinita. È il problema di quei videogame che affrontano qualche difficoltà durante lo sviluppo e arrivano sul mercato in netto ritardo, portandosi dietro idee e contenuti ormai vecchi. Grazie a tutti.